Amico Nasti, lui che sta creando il complotto contro di me per le uscite carbonali e a lui si sta legando i biglietti con la collaborazione di quest'altro, le uscite di Francesco. Francesco a sua volta dice che ne ha più di me, per forza. Avvocato, guarda qua, il mio nome l'ho dovuto mettere a matita. Ma ci avete anche più uscite di tutto quanto. Adesso che non si era ufficialmente registrato, l'ho, 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 l'ho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti 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 Grazie a tutti